eccoci qua finalmente un po di meritato riposo ci sentiamo un po di musica bene 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 allora andiamo su un bel disco cd oppure mi ascolto un po di kobuz oppure radio internet o metto su un disco un vinile oppure un altro ingresso oh mamma mia vabbè ragazzi facciamo una cosa intanto vi parlo della ruark r7 mk3 ciao amici e bentornati in hi fi club il club dell'alta fedeltà sono fabrizio ed oggi mi trovate qui comodo finalmente ad ascoltare meritatamente un po di musica e lo facciamo in compagnia di ruark sua maestà r7 mk3 ovvero il top di gamma l'eccellenza del del famoso prestigioso brand inglese oserei dire britannico specializzato nelle table radio o sistemi di intrattenimento audio per i moderni ambienti e per tutte le nostre amate location dove ci piace ascoltare musica ruark è un brand inglese che con oltre 30 anni di storia ne abbiamo parlato in maniera approfondita più volte abbiamo visto tutta la gamma di prodotti è un'azienda che tiene a cuore diciamo ha come focus principale la creazione di oggetti adatti e perfetti per la riproduzione audio l'intrattenimento domestico nel modo più elegante qualitativamente al top e più versatile possibile quindi parliamo effettivamente di table radio così definite nell'attuale catalogo di ruark audio troviamo oggi ben sei modelli dove appunto la r7 mk3 rappresenta il top assoluto quindi la vera e propria incarnazione di tutte le caratteristiche di tutte le peculiarità che sono il comune denominatore dei dei prodotti dei prodotti ruark portati all'eccellenza partiamo sempre dal discorso che ruark è definita la bentley del delle radio insomma dei sistemi di intrattenimento e questo appellativo più che guadagnato sul campo e lo deve ruark al fatto che la costruzione l'attenzione ai particolari anche dal punto di vista estetico quindi anche dal punto di vista di come dire la qualità percepita dei suoi prodotti di tutte le sue realizzazioni che vanno dalla mr1 alla r1 ultima ultima arrivata nell'ultima versione che è la radio compatta la table radio da comodino sostanzialmente fino ai sistemi r3 ed r5 meravigliosa ne abbiamo parlato in maniera approfondita e sono prodotti di altissimo di grande successo bene tutti questi prodotti sono definiti bentley diciamo simil bentley con quelle in lì con quella con quello spirito lì perché la cura maniacale nell'attenzione nella costruzione soprattutto nel risultato qualitativo perché ricordiamoci sono oggetti che devono suonare in buona sostanza devono darci un risultato per quello che sono state costruite e quindi per quello che sono state realizzate che è un risultato audio lo fanno da quel punto di vista quindi come performance in maniera egregia e adesso vedremo nel dettaglio in cosa consiste questa caratteristica questa qualità tecnica e musicale ma soprattutto dal punto di vista del prestigio del prodotto nella veste del prodotto partiamo prima di tutto dal fattore estetico quindi la prima cosa quella che vediamo l'oggetto di fronte a noi ruark cura in maniera maniacale lo ripeto per la nostra volta tutti i minimi particolari che riguardino la griglia frontale l'imballaggio il sacco di stoffa nel quale il prodotto è riposto all'interno un imballaggio che ci può essere comodo per coprirlo oppure per trasportarla nella qualità della cavetteria inclusa nella qualità dei connettori e soprattutto nella qualità della componentistica interna tant'è che tutti i prodotti ruark sono hi fi grade ovvero non sono prodotti come dire assemblati alla belle meglio passatemi il termine ma giusto per avere un buon risultato e poi vestirlo in una maniera importante belle elegante no assolutamente no i prodotti ruark partono tutti da una ricerca ossessiva della qualità che parte appunto dalla componentistica dagli ingredienti base che sono i condensatori sono il transistor sono le circuitazioni interne e tutto ovviamente poi porta ad un risultato acustico che ovviamente è definibile uno dei migliori al mondo per questo genere di prodotto solo che li troviamo vestiti in maniera elegante bella contemporanea vintage adatta a qualsiasi ambiente in modo elegante e ripeto soprattutto prezioso bando le ciance parliamo di r7 mk3 eccola qui nel suo splendore nella sua imponenza ragazzi un dato il primo dato probabilmente che a me ha dato veramente una grande importanza mi ha colpito davvero il peso stiamo parlando di una table radio da 30 kg signori e questo significa che è un sistema only one si è un 2.1 con una grande amplificazione spettata in tre parti adesso vedremo nel dettaglio che con le sue generose dimensioni stiamo parlando di quasi 20 centimetri di altezza 18 di altezza che diventano quasi 70 se è poggiata sulle gambe perché è possibile posizionare la ruark r7 anche su un piano d'appoggio volendo con dei con i suoi piedini in dotazione oppure utilizzare le gambe che possiamo vedere qui molto eleganti che donano un aspetto imponente soprattutto la rendono un oggetto a sé un oggetto un oggetto importante che nel nostro ambiente può fare la differenza e in questo elegante cabinet dallo stile un po vintage ma assolutamente dal mio punto di vista contemporaneo che è disponibile in due finiture come per tutta la produzione ruark e parliamo di un elegantissimo molto raffinato grigio laminato oppure in vero legno vero noce americano che potete vedere lì dietro ed è di un'eleganza unica un pochino più classicheggiante ma sempre sempre importante e molto molto raffinato bene la r7 con i suoi 30 kg e con queste generose dimensioni include all'interno tutto quello che è necessario per ascoltare la musica l'unica cosa di cui dovremmo preoccuparci è decidere il brano da ascoltare sostanzialmente questo perché perché possiamo prendere musica ed inviare musica verso la nostra r7 in mille mille modi veramente una fonte inesauribile di apertura allo streaming di apertura musica solide di apertura la musica analogica come il vinile adesso entriamo nel dettaglio e guardiamo esattamente le specifiche della nostra r7 mk3 caratteristiche tecniche quindi entriamo nel dettaglio e vediamo cosa per 2.990 euro perché questo è il valore della r7 mk3 portiamo a caso e quindi cosa restituisce come poterla utilizzare partiamo dalla struttura la struttura è tutta in mdf molto pesante che include nella parte posteriore tutto un modulo di elettronica che include appunto ingressi gestione e quant'altro anche gli ingressi fisici della nostra radio ed un frontale dove sono posizionati due altoparlanti che sono ai lati esatti del del mobile e sono coperti da questa preziosa griglia in tessuto molto elegante molto raffinato qui parliamo di roba scandinava roba veramente molto molto ricercata bene cos'è la r7 mk3 un sistema audio 2.1 partiamo dalla base è un 2.1 con 160 watt di potenza rms significa che ai lati come detto troviamo due altoparlanti con magnete al neodimio customizzati per per ruark che si occupano delle frequenze medio alte un subwoofer sotto messo nella parte posteriore da 20 cm alimentato dal suo amplificatore tutta l'amplificazione in classe rigorosamente in classe a b tra l'altro gestita da una alimentazione lineare con trasformatore toroidale e qui torna l'attenzione e la come dire la caratteristica proprio di ricerca della qualità nel mondo hi fi grade quindi non una radio banale bene il woofer da 20 cm a 200 mm posizionato sotto si occupa delle basse frequenze questo definisce il sistema 2.1 sistema 2.1 amplificazione in classe b 160 watt che sono gestiti da un motore dsp con un 3d enhancer quindi con un algoritmo di spazializzazione del suono per rendere la dimensione acustica della resa acustica della r7 molto 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 grande che va ben al di là delle sue dimensioni anche se generose quindi in grado di garantire una copertura sonora anche in ambienti di medio grande dimensioni pensiamo al salone di casa ad un grande ufficio o perché no in ambienti quasi pubblici come può essere una sala d'aspetto un bellissimo locale una hall di un albergo ad esempio io mi mi apro a tante a tante opportunità di installazione della r7 bene abbiamo parlato di sp che gestisce appunto l'ottimizzazione dell'audio verso gli amplificatori di 3d enhancer per avere una maggiore spazialità del suono il tutto poi permette a questo sistema di gestire addirittura i controlli di tono quindi bassi ed alti ed addirittura di avere il controllo loudness l'opzione loudness questo per adattare sostanzialmente il nostro sistema audio all'ambiente alla posizione dell'ambiente ma anche di adattare l'ascolto ad esempio al tipo di registrazione oppure magari grazie all'effetto loudness la capacità di riempire gli estremi di gamma quando si ascolta a basso bassissimo volume quindi un prodotto pensato nato da questo punto di vista appunto per soddisfare le più svariate esigenze di ascolto nel massimo comfort bene questa è la parte di amplificazione di altoparlanti e di resa acustica adesso parliamo di cosa può fare la r7 per noi dal punto di vista dell'interfacciamento verso la musica ovvero gli ingressi e quindi la versatilità nel vero senso della parola in primis possiamo notare dal pannello frontale lo vediamo qui davanti a noi oltre ad un fantastico display oled che garantisce tutte le informazioni necessarie da lì si accedi ai vari menu sotto menu ci sono tutti i display sono tutte le indicazioni dove disponibili dei metadata per esempio per qualsiasi tipo di file anche cd che stia che stia passando quindi è possibile sapere cosa stiamo stiamo ascoltando oltre che ovviamente un ottimo un ottimo orologio abbiamo uno slot per i cd ebbene sì la r7 include una meccanica cd come fa la r5 modello più compatto una meccanica cd con slot frontale che ci permette di ascoltare tranquillamente qualsiasi tipo di formato cd dagli mp3 a cd classico poi troviamo a fianco esattamente parlo del pannello frontale visto che l'abbiamo qui mi è comodo parlarvene anche un'ottima uscita cuffia con un jack da 3 e mezzo stereo frontale questo per permetterci di fare anche degli ascolti intimistici quindi per non disturbare gli altri per poter godere della nostra musica nella massima intimità e versatilità appunto dal punto di vista dell'ascolto adesso gli ingressi allora gli ingressi sul pannello posteriore gli ingressi fisici ne troviamo alcuni ed in abbondanza direi dal punto di vista analogico troviamo udite udite un ingresso fono con pre fonoria di alta qualità che permetterà di collegare un giradischi senza la necessità di un pre amplificatore fono esterno quindi per testine mm quindi una grande attenzione alla musica a 360 gradi alla possibilità di fruire musica a 360 gradi quindi il nostro caro amato giradischi potremmo collegarlo direttamente alla nostra reset dopodiché sono anche presenti due ingressi separati rca stereofonici quindi per poter collegare qualsiasi tipo di sorgente qualsiasi altra componente musicale che possa in analogico darci soddisfazione attraverso la musica dopodiché passiamo alla sezione digitale la sezione digitale perché c'è un ottimo dac all'interno non dimentichiamolo anzi sottolineamolo prevede due ingressi ottici tosling che tutti e due alla massima risoluzione 24 192 questi sono ideali per esempio per collegare un televisore per collegare una apple tv per collegare uno streamer esterno non mi viene in mente un dap qualsiasi oggetto che abbia un'uscita digitale sotto forma ottica appunto di connessione tosling e quindi di poter utilizzare il dac il convertitore interno della nostra rr7 per avere il massimo della qualità in termini acustici dopodiché è presente un una presa usb di tipologia che è utile sia per la carica di un device come questo è il telefono un tablet o qualsiasi altro oggetto che abbia bisogno di alimentazione magari mentre sta trasferendo della musica verso la nostra r7 e quindi lasciarla sempre in carica ed è anche però funzionale per l'ascolto in play di musica di file residenti su chiavi o chiavette quindi è possibile attraverso l'inserimento della chiave usb sul pannello posteriore ascoltare musica magari l'amico che arriva abbiamo preso della musica da qualcuno troviamo della musica liquida da poter riprodurre semplicemente su una chiave possiamo semplicemente inserirla nell'apposita presa e poter godere al massimo della qualità attraverso tutto il sistema sempre sul pannello posteriore è presente anche un'uscita stereofonica rca che è utilissima per esempio per mandare segnale ad un registratore ad una secondo ambiente o per qualsiasi necessità bene questa è la parte fisica adesso veniamo invece alla parte più interessante probabilmente che è quella wireless senza fili ci sono due opzioni la prima è un ottimo bluetooth hd aptx che permette la trasmissione ove il device lo permetta fino con una profondità fino a 24 bit quindi altissima qualità anche nel bluetooth e poi soprattutto la connessione di rete connessione di rete che può essere wireless ovviamente oppure rg 45 con cavo sempre sul pannello posteriore ricordo sempre che sempre meglio ove possibile utilizzare il cavo per massima stabilità passaggio di banda ed altro oppure si utilizza tranquillamente il wifi il wifi cosa permette il wifi permette di chiaramente inserire la nostra r7 mk3 all'interno del nostro ambiente domestico nella nostra rete domestica e poterla comandare gestire utilizzare attraverso un'app dedicata possiamo utilizzare sia andoc oppure la versione ruark link ma vi consiglio andoc che è disponibile per sia per ios oppure per android attraverso questa app non solo riusciremo a gestire tutti i dettagli della nostra della nostra r7 ma riusciremo anche a poter creare un sistema multi room nel nostro ambiente infatti r7 è compatibile per creare un ambiente multi room nel nostro a casa nostra sostanzialmente con r3 r5 ed mrx quindi con questi altri prodotti all'interno del dei nostri ambienti camera salotto cucina è possibile attraverso un'unicap gestire separatamente individualmente oppure tutte assieme raggrupparle l'audio di tutti i nostri amati prodotti ruark a tutto questo si unisce si aggiunge ovviamente la internet radio io dico ovviamente ma non è scontato la internet radio che permette di ascoltare centinaia di migliaia di stazioni direttamente incluse nella nostra amata r7 e oltre a servizi di streaming a pagamento come spotify connect tidal deezer e amazon music bene come comando oltre l'app la mia r7 lo faccio attraverso i comandi iconici che sono posti sul top della nostra radio e con il roto dial che è il classico ormai iconico telecomando di ruark che permette di gestire tutte le funzioni comodamente da da seduti da distanza perché trasmette in wireless non in bluetooth massima qualità massima versatilità prestigio per un risultato acustico realmente al di fuori al di sopra e al di là di qualsiasi aspettativa grazie alle sue dimensioni la sua potenza l'abbiamo visto la sua ricercatezza la sua evoluzione in termini di prestazioni audio di risultato questo meraviglioso oggetto in grado di suonare in modo talmente ampio grande ben al di là delle sue dimensioni fisiche quindi è l'oggetto ideale per cosa per ascoltare la musica nella massima semplicità quindi se quello che cercate è un sistema per ascoltare musica o per dare voce magari alla vostra televisione possibile tramite un accessorio poter mettere addirittura un tv sospeso e addirittura un decoder sotto sotto la nostra r7 per godere delle nostre immagini con l'audio migliore possibile bene r7 serve semplicemente a questo a farci dimenticare lo strumento e a lasciarci nelle mani della nostra amata musica e a farci rilassare il miglior modo possibile bene ragazzi con questo è tutto per la ruac r7 mk3 al prossimo video dal life i club ciao a tutti